Una riunione, quella in prefettura a Caserta, ha finalizzato a garantire una Pasqua serena anche un 25 aprile, altrettanto tranquillo. Al tavolo, promosso dal prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo, hanno partecipato le forze di polizia, gli addetti del servizio autostradale e quelli della protezione civile. Sono stati analizzati punti critici, sia dal punto di vista della viabilità e della sicurezza pubblica, e in particolare l'attenzione si è concentrata su lunedì in Albis e sull'afflusso previsto, molto consistente, alla reggia di Caserta. Contestualmente è stato messo a punto un piano per la viabilità che eviti al massimo ogni congestione di traffico o altro. Il tavolo coordinato dal capo di gabinetto Biagio del Prete si è concluso poco prima delle 14. Ho tenuto oggi una riunione in prefettura con la presenza di tutte le componenti della sicurezza per predisporre tutte le misure necessarie a tutela della pubblica e privata incolumità in occasione delle festività pasquali e del 25 aprile. Voglio invitare attraverso la RAI i cittadini anche a tenere un comportamento prudente e responsabile anche per tutelare il nostro bellissimo patrimonio.